Musica Musica Amici di Teleuniverso benvenuti anche a questo numero di Spazio Libero l'appuntamento con le elezioni, elezioni comunali ne parliamo con Mario Abruzzese candidato sindaco di Cassino buonasera candidato da uno schieramento unitario di centrodestra il programma elettorale è stato illustrato nei giorni scorsi ma proprio in questi giorni e in queste ore continuano i confronti con la città Abruzzese in queste ore ha ripreso un contatto che sembrava quasi dimenticato nel mondo di internet, nel mondo dei social sta spiegando porta a porta, palazzo per palazzo quello che è il programma che caratterizza il suo progetto politico e amministrativo e sta incontrando i commercianti perché uno dei capitoli abruzzese è il patto per il commercio in cosa consiste? Beh, consiste nel far capire diciamo ai commercianti l'importanza del loro ruolo all'interno della città di Cassino non solo come commercianti puri ma come attori principali per lo sviluppo io ho presentato un progetto domani sera assiclerò un patto con loro che è il patto per il commercio che prevede un progetto imperniato soprattutto sulla cultura Cassino, città, cultura perché se noi non facciamo riprendere la cultura non c'è sviluppo perché la cultura è un fattore di sviluppo per il turismo perché la cultura è un fattore di sviluppo per l'economia per il commercio la cultura è un fattore del sapere del socializzare quindi sto lavorando su questo progetto sostenuto da quattro gambe da quattro bastioni molto forti il primo è Cassino città naturale un museo all'aperto ormai nella città di Cassino quindi dobbiamo fare in modo che nella città di Cassino arrivino i pullman dei turisti per cercare di far visitare le bellezze che Cassino ha a disposizione quindi dalla Rocca Iannola alla Villa Comunale alla vecchia Cassino alle Terme di Varrone all'Istoriale quindi percorsi che in qualche modo incuriosiscono i nostri turisti dopodiché c'è l'altro percorso che è Cassino in salute significa ovviamente su questo percorso, su questo bastione noi abbiamo inserito la pista ciclabile che deve essere allungata, illuminata deve essere ben curata con un grande punto di ristoro capace di poter soddisfare le esigenze dei cittadini e degli sportivi e ovviamente la nuova isola pedonale che non può essere l'isola pedonale per il corso della Repubblica ma la nuova isola pedonale sarà collocata su piazza La Briola attraverso un restyling della piazza stessa in cui le famiglie e i giovani si divertono anche con la movida perché noi siamo per una movida in sicurezza che cosa significa? significa che i giovani devono divertirsi e ovviamente rispettare le norme di sicurezza dopodiché c'è il percorso Cassino Sport e qui lanciamo un messaggio agli imprenditori ma anche agli sportivi siamo aperti ad un ragionamento per realizzare il palazzetto dello sport siamo aperti ad un progetto di finanza siamo aperti per realizzare una clubhouse tennis perché ci sono imprenditori che vogliono costruire questo tipo di rapporto con l'amministrazione comunale ovviamente c'è la società sportiva di calcio che sta dando lustro alla nostra città per finire Cassino Città Eventi Cassino diventa importante se noi costruiamo e programmiamo gli eventi per esempio su Piazza Labriola è una piazza che deve vivere almeno sei mesi l'anno con degli eventi organizzati da tutte le attività commerciali capace di attrarre turisti nella città ma soprattutto di far vivere il centro della città di Cassino tutto questo si chiude intorno ad un grande progetto che è il cartellone teatrale perché se non facciamo rivivere il teatro nella nostra città rappresenta una sconfitta per qualsiasi amministrazione perché senza cultura non c'è futuro senza cultura c'è ovviamente un imbarbarimento della vita sociale e quotidiana e quindi la cultura per noi rappresenta un pilastro importante su cui costruire il futuro della città di Cassino Lei ha parlato anche di imprese e di sport c'è anche un patto con le imprese in questi anni si è inceppato qualcosa tra Cassino e il tessuto industriale perché sono mancate le politiche del livello più alto cioè quelle che si decidono a Montecitorio e a Palazzo Madama in qualche modo volete riannodare questo filo tra la città e le imprese lei parla anche di un patto per le imprese che sarebbe? Sì, un patto per le imprese perché il sindaco della città di Cassino non è solo il sindaco di Cassino ma è il sindaco del Lazio Meridionale è il punto di riferimento è il faro per lo sviluppo quindi il sindaco deve coordinare i sindaci c'è una consulta dei sindaci che va ordinata c'è una consulta dei sindaci che va orientata e quindi questo sindaco deve avere la grande capacità di sussurrare agli imprenditori di far capire loro che c'è un'amministrazione forte e autorevole perché poi gli imprenditori non chiedono nulla chiedono solo una grande attenzione più un'attenzione psicologica sapere che dietro di loro c'è un'amministrazione forte e questo patto ovviamente contempla una serie di impegni da parte dell'amministrazione comunale da parte del sindaco l'impegno a sostenere le loro attività l'impegno a semplificare le procedure l'impegno a creare un swap territoriale più ampio l'impegno ovviamente a fornire loro tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda i finanziamenti europei ce ne sono tantissimo soprattutto sull'innovazione sulla competitività sulla ricerca sulla internazionalizzazione parliamo di cose serie perché se noi non aiutiamo le imprese se noi non sviluppiamo le nostre imprese non creiamo ricchezza e se non creiamo ricchezza non possiamo distribuire questa ricchezza alle persone meno fortunate di noi io non li chiamo poveri le definisco persone meno fortunate perché nella vita ci vuole anche un po' di fortuna e quindi l'amministrazione deve farsi carico di questo paradossalmente io parlo di impresa per parlare di sociale perché non si può parlare di sociale se non si crea prima la ricchezza quindi da un lato c'è il pilastro del commercio e dell'artigianato che deve riprendere a vivere in questa città dall'altro c'è il patto con le imprese le imprese produttive che garantiscono da un lato i posti di lavoro che già noi abbiamo a disposizione e quindi tutelare quelli che noi abbiamo dall'altro ovviamente creare una nuova rete di assunzione capace di poter occupare i nuovi giovani nel sistema produttivo del Lazio Meridionale che è un sistema produttivo più importante della Regione Lazio quindi abbiamo il dovere di guardare con attenzione anche questo mondo che non si lamenta mai che non può essere abbandonato perché gli imprenditori si svegliano la mattina e non hanno il tempo di pensare ad altro se non al processo produttivo alla difesa dei posti di lavoro alla difesa del reddito e alla produzione della ricchezza questo è un impegno serio che io voglio sottoscrivere proprio per dimostrare che c'è un'attenzione particolare nei loro confronti Cassino ha un limite però per attuare le cose che lei sta dicendo il limite è l'assenza di una struttura sportiva che risponda a quelli che sono i canoni di oggi dello sport Cassino in questi anni è cresciuta ha una squadra di calcio che ha un livello comunque agonistico importante ma accanto al calcio sono cresciute realtà come il basket come la scherma manca una struttura sportiva che risponde in maniera adeguata a questo allora come intende dare risposte l'eventuale sindaco Mario Abruzzese a queste esigenze? Guardi io credo che lo sport rappresenti un veicolo straordinario per socializzare rappresenta un veicolo straordinario per competere per crescere per formare il carattere dei giovani ma soprattutto per formarli ad un ad una educazione civica perché lo sport rappresenta anche un momento di confronto di lotta di vittorie di sconfitte quindi è giusto che l'amministrazione comunale fornisca alle società sportive ma anche ai giovani indirettamente delle strutture idonee quindi io ho inserito nel mio programma elettorale in questo programma elettorale che realizzeremo il palazzetto dello sport perché questa città merita una struttura importante non possiamo pensare con tutti il rispetto per la città di Frosinone che sta ospitando il basket Cassino Cassino deve realizzare questo palazzetto allora io ho pensato di pubblicare una manifestazione di interesse per cercare di capire se gli imprenditori sono interessati a realizzare questa struttura di 3.000 posti laddove sorge oggi una piscina incompiuta demoliamo quella piscina e concediamo quest'area ad un imprenditore per realizzare questa struttura a costo zero per il comune significa che l'imprenditore ovviamente trova il suo ritorno economico attraverso delle opere compensative che il comune metterà a disposizione e nello stesso tempo daremo una struttura importante ad una società di basket che merita grande grande attenzione come credo che sia giusto potenziare gli impianti sportivi perché abbiamo anche una società calcistica al cui presidente Nicandro Rossi sta dando la sua anima la sua passione la sua voglia addirittura ha messo da parte quasi le sue aziende per dedicarsi a questa passione perché quando c'è passione c'è cuore e quando ci metti il cuore il cuore difficilmente si collega con il cervello il cuore cammina da solo questa persona come gli altri presidenti devono essere sostenuti quindi un'amministrazione al loro fianco al suo fianco per dotare meglio di servizi questa struttura calcistica che secondo me merita tanta attenzione idem per lo scherma cioè stiamo parlando di una disciplina sportiva che fino a qualche anno fa nessuno conosceva oggi nella nostra città c'è grande interesse grande fermento quindi anche su questa linea noi dobbiamo lavorare con grande interesse come credo che sia giusto anche lavorare per dare una risposta ai tennisti del Lazio Meridionale il tennis è una disciplina sportiva straordinaria che io pratico ovviamente non sono un campione mi diverto però credo che una clubhouse a Cassino debba sorgere per diciamo mettere insieme queste persone che hanno voglia di passare del tempo all'interno di questa clubhouse con le proprie famiglie quindi uno sport concepito in modo diverso uno sport concepito come momento di aggregazione e ovviamente di socializzazione oltre a praticare la disciplina sportiva che piace di più attenzione perché Mario Abruzzese può essere votato soltanto a Cassino se votate per le elezioni comunali di Cassino si vota un giorno soltanto cioè domenica 26 di maggio per votare Mario Abruzzese dovete barrare la casella nella quale c'è il suo nome potete dare massimo due preferenze per scegliere anche i consiglieri comunali che volete che governino insieme a lui se date due preferenze devono essere di genere diverso un uomo e una donna non potete dare due preferenze dello stesso genere cioè a due uomini o due donne potete darne anche eventualmente una soltanto per completezza è possibile fare voto disgiunto cioè votare il sindaco di uno schieramento e i consiglieri di un altro ma Mario Abruzzese non consiglia questo la sua richiesta è quella di votare per lui come sindaco e di esprimere le preferenze per i suoi candidati al consiglio comunale grazie Abruzzese grazie a voi per averci seguito arrivederci grazie a tutti grazie a tutti